Siamo qua? Siamo qua, andiamo là Nananananana Dove? Qua Ah, come si chiama? Pony... Pony... Chi? Ponytail? Pony... Chi? Non lo so... Qua, ci ho messo il segnale Che noob Sì, qualcosa di sì Non lo leggo io, d'accordo, ti giuro Non c'è scritto Pucinchi Pucinchi, ok Pucinchi Pucinchi Perché oggi lo chiamo così? Non lo leggo Lo so Lo so Perché c'hai 640x4.8 High resistance Tu non metti 640x4.8 High resistance RECESSIONS Guarda quella Che cazzo fa? Mi ha esploso un timpano, non so Perchè? Eh, lui, te l'ho detto abbassa sto cazzo Oh, l'abbassa, dai Adesso? Eh, che fai da vicino, che tanto tutte le serie lo rialzi testa di cazzo? Nooo Questi cazzo No, l'ho abbassato veramente Lui l'ha abbassa da vicino con la rotellina Eh, con la rotellina Con il settaggio di Windows Ma scusa, 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 che cazzo E tornaremo No, non rialzo un cazzo L'audio di Windows è un po' stesso Sì Sì Però, dico, tu lo rialzi poi Lui vicino la rotellina No, non lo rialzo No, non lo rialzo No, lo rialzo mai Cazzo No, comunque va bene Veramente, va bene E basta strusciare vicino un bando Va bene o no? Sembra di sì Però, secondo me sbagli Cosa sbaglio? Vai, concentratemi Qualcuno ha caricato un po' c'è la pompa Ah, Zotar Perché non mi esce Zotar? Zanad è qua Venta vicino, io non ho armi Interessante Ma era lo zaino, sefi E questo io, secondo piano Cioè, piano... superiore Venta che si sta sparando male con... Perché questa mappa non ci sono i Winchester? Io non ho armi Continuo a non avere armi Poi fate voi Le troviamo noi, dice No, fate voi, infatti Dico, giocate voi Come giocate voi? Non ho armi Ok... Siamo fregate noi Stanno tirando? La sigaretta? La pompa No, te la donna a capo No... 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 Se facciamo un'arma Già venivano fatti due Li vedo pure, Zotar Dove sto io? Comunque Stanno a Nord Dietro una casa Mi ha messo giù l'amico Uno ha messo giù Uno ha messo giù La pistola Ah, una kill l'ho fatta La P92 Gente vicino a Nord, eh? Chiaramente mentre ti nascondi viene ucciso Perché ormai sei dietro all'ostacolo e devi essere ucciso Guarda qua, guarda come sono morto Qua mi sono fermato Dove proprio ho fatto l'ultimo passo per andare a terra Ma era da solo? Da quel tizio che è l'amico nostro che l'ha ucciso Stavo cercando di passare la strada Eh vabbè No, Zotaro, sei utile veramente come un caccio in culo Vabbè da teso con la pistola E su Io ho la pistola, dico E l'ha pure ammazzato uno Eh no, mo Cristo No, per ora è ancora una cosa nuova per lui Quindi non gli passa la paura di combattere Per esempio su Fortnite Sono molto più convinto Che lo conosce bene Ma grazie al cazzo Ma sto cancro sta Guarda Sto cancro sta fermo Spara tutti con l'UMP Eh, pim 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 Ma il cazzo di se frega Zotaro deve correre Deve andare a aiutare la gente Deve ammazzare Cazzo Sono arrivato Mi ha ucciso Mi sono nascosto Cazzo Gli ho tirato un colpo Ma poi basta Diciamo che Zotaro Sarebbe utile Se riusciamo ad andare insieme Quando riusciamo verso qualcuno Ad esempio se vedi Che tutti i compagni si allontano Non rimane all'ottavo Perché è inutile poi Cioè Ti assicuro che Se andiamo col contagocci Da loro ci fanno molto facilmente Se siamo in due Invece deve sparare a due Deve preoccuparsi da due Che sparano Ma pure tre Però per dire In quel caso lì Io stavo seguendo te Ero a quattro metri da te E ho visto che Che partivano colpi dalla casa Alla mia sinistra Quindi ho detto Faccio il giro E provo a prenderlo Lo chiedi Che ti stava tirando Perché tanto Passo da lì Tira anche a me Non so manco dov'è Ah io ho provato a passare la strada Perché se ci uscivo Eh appunto Appena ho provato a passare la strada Ho visto i colpi Che partivano da lì E allora ho detto Lo prendo da dietro Tanto Ormai ti aveva preso Troppo avevo un fucile a pompa Questa è la terza persona comunque Che ti fa essere troppo prudente Sentiamo Il gioco Più sei sciolto Cioè va bene la prudenza Però più sei sciolto tipo a Provare da sotto A girarlo Entrare da una finestra Fa finta di sfondare lì Insomma queste cose qua Più sei aggressivo in questo senso Più l'avversario non sa che cazzo fare Perché se Se ci arrivi poi la spicciolata È più facile che Riesci a far tutti Come ci capita spesso Che riescono a far tutti Ma vabbè c'avevi quello che ti sparava Però ti dico prova A avere più quella Non ti dico di buttarti eh Tu lo sai che non ti dico Non ti dico fa cazzate Non devi fa cazzate Devi essere sempre Perché mi piace come sei pragmatico Tipo quello mi fa se vado di là Devi sempre pensare Però ti dico prova Un po' più a essere Diciamo selvaggio Sicuramente attento ma Se riesci prova a metterci un po' di cattiveria Perché Sì Beh questi scappano così O giocano male Perché Stai in un gruppo di pazzi Perché Se uno che parla così Come lo giudicheresti Hai sentito la voce di questa? Sì Hai sentito la voce di questa? Sì Hai sentito la voce di questa? Sì Hai sentito la sua voce? No Non penso Ho fatto Ho fatto Io ho fatto E così E tu gliela fai uguale Io nel momento in cui sento la gente Rifaccio la voce simile a lui Ma tu fai sembra che siamo un team capito che Non lo so siamo seri Provoci C'è nel senso Questo si impegna Che ne so tipo Hello How are you? Ah questi comunicano bene Allora Forse Collaboreremo bene Ok Go to die kill Vedi c'è ne hai 3 dietro 4 5 Dove andiamo? 5 C'è ne hai 4 davanti e laggiù Ok Proviamo a scendere qua dove stiamo muovo Perché stanno 2 No no 5 ce ne stanno dietro a noi E 2 davanti 2 davanti 2 davanti a noi a nord estro Io girando Seguendovi 3 Tra l'altro mi ricordo E la SAR Non c'era chissà che Però vediamo Chi è che sta? Vado davanti Ho trovato l'Upper C'è una pistola C'è una pistola Poi c'è una zaino al 2 Mi due colpi per la pistola Chi l'ha rotto? Io Ne vedo due alla caserma di fronte Vengo lì Vengo con te Vengo con te Ah ok No perché stava sparando Non capivo Cazzo si è affatto ce l'ho Non ho colpi Ho la pistola ma non ho colpi Ma colpa di che tipo di pistola c'hai? Eh 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 Di 19 Ma è 45 Leggi un po' Ti lascio dei colpi 15 perché ce ne ho pure io 17 Vedi se ce n'hai altri Sve? Io sono la pin 92 Questo mi sta appuntando Non si muove da lì ragazzi eh Non si muove da lì Sta semplicemente Con l'A Con l'A premuto Ti dito al muretto così Dici appena ti affacci ti faccio Cioè sta proprio così Lo dobbiamo fare Io sto con la pistola di mo Giusto paracolare Ah gli ha sparato qualcuno Dall'altra direzione Tuomo figlio da merda Eh ce lo sta Reverso Revolver 45 pure C'è sto con la pin 92 Vivo Io sto un po' so E poi da Noo Io ho indietreggio Anche io Andiamo 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 Ho luttato un cazzo Sì Io sto con la pistola Dall'altra E quel lato mare col pugno Ma vaffan Cuda Tonto a me canna Io non c'ho qualcosa Non c'ho qualcosa E' tutto aperto Mortarci vostro E' tutta aperta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sopra, 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 sopra. E' un VSS, poi c'è un Winchester, chi lo vuole? Winchester! Hai preso la M6? No! Dov'è? Da qua! Da sto io! Qua, qua, qua! E ti sarei sciuto! Oh, madonna, oddio, qui! Ah, ok, ok! Ma mai si deve abituarci con la demo Eeeh, Simon! Pietro, da un 2x Addirittura No, c'è un VSS, zio Sì, te, te, 2x Io sono metto sull'M16 Sì Vai, vai, vai Equipaggio, equipaggio I colpi 45 su questa mappa se ne trovano tanti Trovassi un Vector Ho lasciato un Tommy Gun, se vuoi Ah, mi sono piaciuto il Tommy Gun, infatti quello che hai lasciato prima Eh sì Ho messo il suppressor SMG che ho trovato dall'inizio, perciò liscio Mi sembrano solo i pezzi Io sono l'OMP Extended mi serve e il manico A meno così me la posso giocare A livello automatico non c'è una più Un vertical e un extended SMG Comunque siamo davvero Però io ho un vertical Il compensatore mi ha stupito prima nella partita Eh, è così, ti deve sempre stupire Senza, proprio deve essere tranquillo Ammirare con quel coso No, con la K intendo La K non sai come balla, eh Con la K Sì, è maledetto col compensatore Ma guardate, ho sentito Quello è sceso Ho sparato In auto Mi si è ballato un cazzo Niente L'ho sfasciato malamente Che c'è sta qua? Ah, una pistola 9mm, vabbè Zota, che colpi ti servono? Vabbè, 9mm Fucile a pompa li lascio qua E ti lascio questo per M16 Questi per M16 La punta e il quick draw Poi il vertical for great Sì Grazie Ti lascio un angle edito Così ce lo metti su un'arma automatica dopo Che è meglio sulle automatiche quello Però a me ci va solo il vertical Io ho sparato il tanto che Zota Prima o poi non diventi come l'Ontra Nel senso Che comincia a fa' Derank a destra E sconfina sinistra Flankalo Twinkalo Prinkalo Sprankalo Sta piccando Che dopo un po' io lo volevo insultare No, neanche tecnici Perché esistono pure in italiano Semplicemente ha giocato parecchio a certi giochi E ci ha appiato la pietra No, poi il problema è che lui mi Nei server Mi schiava giochi E termini Termini di altri giochi C'ho un mini 14 qua Zota C'ho un mini qua Eh Zota, se ti pigli il mini Mi piglio il M16 E mi levo il WSS E mi levo il WSS Non ci trovo Vuoi il WSS sb Eh no C'ho la K Il 4x Per nostro io lo prendevo volentieri Il WSS Ok ok Il 4x o il suppressino Per l'OMP Mi serve un mirino per le mini 14 Tiè, ti posso da niente E qualche colpo 55 Ah tiè 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 ti posso da questo Tiè Eh, vai che niente E tu? Eh, c'ho il 4x sulla K E il 3x sulla MP Ok 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 Ehm VSS Ehm Ehm Questa non parla Questa non parla Questa non parla Questa non parla Ehm C'è un drop a 2.40 lontano Ah Sve C'è un niente C'è un niente Oh non c'è un niente Ehm Un'arma automatica Sì 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 L'ho già usata Ok Ah sì 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 Silenziata poi Dicesti che l'hai usato Simo Ehm Non ho trovato un cazzo Se mi hai trovato in casco sarebbe pure utile Io ho trovato tutta roba Pope tutta Tranne per me un casco Niente Ehm Lascio un compensatore SMG Vi serve? Compensatore SMG No VSS Ehm Ah volevo il VSS quello Ah aspetta Tu c'hai il VSS E le M16 E le M16 Sono uguali? No Tutti i due è singolo come se fosse no? No VSS Vabbè la VSS più sniper E' un singolo per molti è E' ovvio che deve essere singolo Eh dico Uno è sniper L'altro è comunque colpo singolo Può mettere Bars Però non è chissà Che arma automatica è Soprattutto se tu mua è iniziato per abituarti a usare il burst che si ferma Ci vuoi un po' Vabbè ta 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 Vabbè se l'hai usato in altre giochi si Ta 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 Mi serve un casco WSS was taken already ok ma lui è bravo lo so che è bravo quando dormo ho 4 bibite strano come cazzo una dammela bevi troppo te sei confiata la panza l'ho lasciata qua, sve, tu dove cazzo stai? perché ha un cristo di coso piene una, c'erano un altro e due beh, allora ti vengo a portare, basta che la finisci di cercare elmi, cazzo non li trovo non ti servono, vai così senza io questo per forza che devi pia lento, non ho capito ma vengo, ma vengo, senza che fai così, stavo scherzando questo non c'è un rimetto, sve qua c'è il suo due, uno al due pure dove, dove? scendi di ricchione qua la moto sparo, pezzo di merda dov'è il due, uno al due, dov'è? è sparito, è sparito te l'hai preso lui maledetto Zotaro, ti potesse venire la diarrea, adesso e te sei finito, proprio la diarrea per meno una settimana che ho fatto? madonna, proprio la diarrea, fischio come metti il culo come metti il culo sul cesto, proprio così proprio devi uscire a star nota che schifo? te Zotaro, verso domani mattina alle sette ci sarai una brutta, ci dico mal di panza e senti proprio direttamente direttamente mentre ti stai alzando a letto tenti di andare al cesto e ti caghi sotto come? mentre tenta? tenta di andare al bagno per sbrigarci perché sente un dolore di panza mentre tenta proprio è crudele eh no no, anzi neanche ti stai, che ne so ti tira giù non so se usi il pigiama quello che sia per dormire no? mentre stai sul cesto ti stai tirando giù il pigiama così diretto manco la senti ti è talmente il fulminia che dice no porco mi passava un piede questo che mi segue questo che mi segue a luttare che ogni volta si fa il piano di sopra perché io un attimo che mi calo al piano è una cosa certo a un certo punto devo demordere qua già abbiamo visto oh madonna è vero è vero non devo dire non devo una minastra cosa così per niente allora qui cosa c'è? se for not to go to non lo confondono giocano male quando li confondono tu devi pensare che sono come i bot non devi confonderli io stesso vai a nord sepphroth ho detto go to the north ho detto niente di che stavo avvertito zoda però lui non sta il gioco è un po' canchero di su e tom help o sepphroth cosa help? che cosa? ah si dai non lo confonde porca troppo non ci capisce più niente non lo sento neanche figurati che burlo che burlo ci siamo incastrati in mezzo vai 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 siamo usciti tutti c'è un UMP c'è un UMP oh UMP UMP prendo io me lo potrei pigli alps di Tommy gun però non so come stanno messi ma togli quel cesto di Tommy gun per piacere eh dove sta sve here se lo stai fia con lo stronzo ok lasciate il compensatore lì se vi serve ma perché si è tolto la lupara eh poveraccio mortacci c'è l'M4 e l'UMP no è sto fango di merda c'è pure l'M4 sto pezzo di stronzo insultano un po' zoda insultano un po' vabbè ma gioco con noi almeno c'è questi cazzi lo faccio come manganello lo uccido per fregargli la roba madonna manganello è stato il peggio no no quello è manganello fino a quel livello ancora non ci sono arrivato oh ma la barriera nessuno sta a guardare io sto a luttare come un porco ah siamo dentro ah vedi lo dici pure stronzo come un se l'altro eh è un S sì è un S senti che parola sei frottonello anche io adesso two time two time two bello che sto rispondendo a te sto rispondendo a te anche io another two time for me bello che sto rispondendo l'UMP a sto tom ha lasciato l'UMP eh lo dicesse però il cuglione c'è un extend mag AR qua se volete cioè ve l'ho preso ve lo porto se volete chi è che ha un AR ti serve un extend mag SMG no no c'è un extend quel che trovo AR ce l'ho pure io ma non c'ho l'arma lascio i colpi 45 e qua mi piega 9 mm ce l'ho another WSS here vabbè quindi mi soppiato l'UMP silenziato oh c'è un WSS qua vabbè WSS non ci serve ma no siamo tutti come 16 ho chiesto infatti il 2x non serviva a nessuno di noi io c'era un altro 2x appunto dico ce ne so tanti quella roba siamo quasi dentro no siamo dentro here WSS cazzesco ci sta mettendo la barriera addosso praticamente ah lui è buttato e sto stronzo c'è pure no no si muo questo l'ammazzo sparo 100 colpi sulla coscia no c'ha la veste al 3 casca al 2 eh e lui mi hai detto no è il cazzo è finita la discussione è finita la discussione è bella d'ammazza te non è quello se non ammazza lui non è che ma tu perché devi rosicare no io devo qualcuno te l'ammazzate ah qualcuno deve morire decidi è o te o lui decidelo subito decidi finisci la di parola decidi che che ha sparato decidi vendrax con il silenziatore decidi guarda te guarda e decidi che tra poco spero facci noi di casa una cosa guarda quanto ogni volta che ci siamo mossi a cazzo abbiamo la barriera sotto al culo che ci accompagna quindi ora qualcosa arriverà verso sta direzione dobbiamo sta pronti perché questa partita pare che vuole girare così questo è il 2 qua level 2 si ah 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 cosa ah 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 c'è il canado di gripparmi il cervello ah 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 Lo togliere verso verticale e mette in angolo E vediamo Compensator for sniper E' pure un tedesco di merda Madonna questo è un tedesco figlio della merda No 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 non è vero E' un amico No dai ninja al terzo Reich Compensatore per Compensatore SR No conoscendo Zotaro Inneggia al terzo Reich insieme al tedesco Ti apprezzerà Zotaro sai che è stato bannato su FIFA Perché inneggiava al terzo Reich Sì che mi sei l'immagine Di Hitler Che giocavo col padre Con il joystick Quella è divertente Che mi sei il migliore di chiede Ah sì a 5 metri No il cavo Occhio No no raga Mo seriamente devo andare qua Dove ho messo il segno Celeste 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 Ma ci avete un mirino voi C'è un 4x sulla K Sì Go to the south west We should just camp Until we have to move Ok Che dobbiamo camperare finché 230 Direction Hai capito Sventrax Cosa No niente Io so due parole in croce in inglese Concentrato non me ne frega niente Concentrato Oh chi è Questa secondo me è Carmela Madonna No ma siamo già dentro Ma che cazzo Stop 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 Dice che dobbiamo camperare finché non c'è bisogno di andare via Return to Kalazar Oh yes baby Oh yes baby Oh finalmente è entrato il quarto giocatore serio Vedi Ma campera dove però Eh Lui diceva di rimanere lì Dove stavo Qua qua Ma non mi piaceva da morire Vieni dove sto io Trovo io un punto buono Questo quello davanti a me Questo tre pianissimo E' molto mobile Un palazzo molto largo Mobile Puoi uscire dai finestre Cazzo ci si vede che è tutto chiuso Bella merda E dovremmo andare in un palazzo che sta qua Uno di questi Qua qua Stando da Questo Eh Ce l'ho già Stando da stai vicino Non serve nessuno No Che cazzo dici All game one building Dice che dobbiamo stare un po' Uniti Eh Sono cercato Lo sento Perché tu hai mutato La madonna Invece di disattivare solo il tuo microfono Cioè Se non Doresti mettere il push to talk In modo che Lo puoi tenere sempre attivo Tenta Andiamo tu sta Qua Di 9f Vieni qua Contro di disabilità Proprio tutta la chat Sia tu Ah ok Non lo sa Invece se metti push to talk Arriva Yeah everyone come in this building Ok Let's go Come rispondi Come dici Io rispondo Eh il cazzo gli si frega Vedi Vado a pisciare Vabbè Intanto stiamo Vabbè sfondato Se ne sta andando Andiamo Eh dobbiamo andare qua Sì perché siamo fuori Ho visto È che non capivo Perché dove Avanti Come avanti No no Non c'è stata andata qua Pensavo fosse Avanti Poi che è questo Restrano Ma qua Andiamo a sto palazzetto qua Ma questo è chi Ma no È troppo basso E teniamo Guarda questo è di front Vieni qua Questo palazzo qua Vediamo un po' Ecco È da due piani Bravo Sette Ok Perché almeno qua A due piani Possiamo Vedere sopra sotto E mi rimuovo We've killed one person Shoot west direction Ah forse sono su Eh vedo 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 V40 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 ho preso due ultimi non ho preso simon non lo vedo non ho fatto uno ma si è abbassato ora è andato giù c'è dietro fuori e dove siamo fuori porca puttana andata rest we need to get out of the building ok ok we need to go ok ok we need to go 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 dietro i don't know dietro ma oh non riuscivo a passare la strada troppi a sparare nello stesso secondo tutti addosso a me sii pure a me mi hanno sparato di mo aspetta aspetta cerca di venire qua lascia la prima di la spam lo vedo lo vedo vieni qua la barriera sta stringendo devi andare a spam via guarda come sto io non c'ho vita non c'ho vita non c'ho vita nooo che sape a me la grappa è salvata a te la granata mi ha fatto pure a me porco dio io per scendere lì eh tom di merda figlio di merda figlio di merda io per cercare di salvar simone sono morto pure io agli ultimi cerchi è sempre così nooo per salvata a te cioè ho tentato almeno di salvata a te eh non è mai cosa perchè c'è sempre che la barriera ti frega o la gente ti pusha in poco nooo ha fatto bene quello ha tirato una granata giustamente l'ho lanciata pure io a quello che ho messo giù ma ho preso il tetto questa bomba di benzina o un palo cazzo lancia le stun stu dioda deve andare avanti ora se lo bevono guardalo ora non si è reso conto che sta per partire la barriera 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 eh barriera oh d'altro qua e come cazzo ma questo è un po' pazzo great non sarebbe molto comune vabbè adesso dai vabbè sono mister good in il 96 che ci fa ancora online i genitori ah ma forse forse c'è un'altra timezone vieni l'ha fregato l'amico minchia poi devi aggiornare il testro non stiamo sul test eh però devi aggiornare 6 giga di testro mamma mia intanto tra un po' si aggiornarà al server normale quindi rararararara che è la drillera? che cazzo posto è la drillera? non ci sono mai andato alla drillera adimo è nuovo siamo andati alla drill la drilliera siamo andati sai che cos'è sve tutto coso di legno mai andati ma che cazzo di ecco siamo sopra ok perchè stavo più nel deserto non capisco dove stanno tutti sti cosi di cemento qua? cemento finchia sono uscito assaltamente a sta sto poverino a te ti hanno fatto male eh tutto io mentre scappavo com'è successo a simone qualche colpa c'è qualche colpa no ma quando è così quando ho passato la strada così diciamo che non mi aspettavo di avere gente dietro pensavo di averla davanti no c'era gente ferma nella casa vicino alla nostra ah non era una parola no quello era dicevo simone non so se hai capito ho detto simone c'era gente dietro la casanotte ah tremone tremone cosa vuol dire tremone? vuol dire che sei figo mi sembra no tremone sei cazzo significato demente è un deficiente è un deficiente è un tremone è un mezzo idiota un idiota dai è un sefirot dai dove andiamo? eh dove andiamo? impara? eh impara ah ah oddio da me impara un simone simone ecco simone ecco simone ah quello vuol dire ah 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 comunque tremone si ma ti sono arrivati gli stand nuovi di patatine? madonna la gara no no simone ma davvero i 27 fanno la selezione del vincitore ah del nuovo gusto non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno perché si è scesi tutti molto primo a leones eh beh allora mi vedo la chiesa e vedo la chiesa si ma che dici ma è successo anche l'altra sera o si eh no no immagino ben no che te compri? Dentro questo secchiello Quest'anno due chili e mezzo di arachidi Con le coperte di paprika Ma un secchio da due chili e mezzo Deve comprare l'azienda E la deve Fare sua per mangiarsi Tutte quelle cose là Per fare l'azienda Un secchio che costa Tipo dodici euro Due chili e mezzo De frutta No di noccioline con la paprika Invece quello che lavora da me Si è preso un chilo di Frutta secca mista In un barattolo Si è preso la frutta secca Si Cazzo un chilo Un chilo Tu pensa Un secchiello da due chili e mezzo Un bidone Finisce più No no Mi è partito il colpo a me Ma ma che paura Ma che paura Mi sono cagato in mano Classica Classica Dota Adesso vedrai il giocatore serio Cioè roi Far vincere il team Ma c'era anche l'altra sera Eh ma adesso lo vedrai seriamente Che sono una pipa Ma quale pipa Guardate chi fa la differenza Qua dentro Ah se ci fosse il Borga 70 Ma no no Cioè no Facci neanche capito Se fosse stato il Borga 70 Ma neanche iniziava Come leggeva Borga 70 Game Ti dava direttamente Winner winner Che che dinner Come immaginavo Ma ci sta Perché questa è la realtà Dei fatti Cioè dava direttamente Winner a Borga No no Sai che succedeva Vedevi Borga online La gente feceva tutte Exit 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 E vincevi così Altro che check norris Insomma Si si no Vinci direttamente E la gente esce Tu lo sai che il Borga E' il dottor disrespect italiano Si Ovviamente Allora 2016 qua E ci sta pure Un winchester Un zaino Di quanto siamo fuori Fammi andare a vedere Di poco E che non sto trovando un cazzo Eh quello è importante Che cazzo devo buttare Che cazzo c'è sempre Roba inutile addosso Ho trovato ora uno zaino Ho trovato ora una volta Vedevi Oh 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 Benelli Ho trovato due zaini Ho 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 Benelli Ho trovato un Ho 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 Benelli Le case a 185 Non so per te Se è uguale Alla direzione Da sopra lì Se risale un altro punto Era una casa abbastanza Grande oh un car e vedi così prima si lamentava poi oh un car un car con l'olografico sopra tanto passi però io chiesa l'ottata sceso la iniziamo a roi abissare io l'SKS chi vuole il mini 14 e culaiolo un quick draw mag sr sai che quasi quasi toglierai l'uzzi se vi piate il mini 14 che cosa lasciate che sto con l'uzzi 16 ma queste munizioni ti servono? 5.56? no però chi si piglia il mini 14 fai gliene trova qualcuno perché in pratica io mi tolgo l'uzzi e vorrei capire cosa vi lasciate che me lo pizzi ecco pure l'M16 Bars non sarebbe male perché l'uzzi non è cosa ho pochissime munizioni 5.56 vediamo di trovarle c'è una 50 con l'M16 che hai trovato? niente eh niente niente davvero niente mi fa confugire la pompa bene così ah la pompa beh qua c'è l'uzzi dove sono uscito io adesso come la pompa che non ti pigli l'uzzi e posso fuggire la pompa? no vi ricordi no non la voglio intanto l'uzzi è da vicino questo non vuole più niente da quando ha conosciuto quella rachidi di merda vuole solo paprika 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 ma c'è un SKS meglio del Mini 4 sì ok SKS al posto del Mini 4S si interrumpiva ah sì 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 mi piglio i colpi 556 li lascio ora sto lasciando SHUTTAI ancora non trovo un elmo tra l'altro come si faccia dividerli? CTRL e poi non nemmeno un elmo al 2 eh io c'ho un elmo al 0 al simpatico sì sì fatto e poi esplode niente devo trovare almeno un elmo del cazzo poi c'è nel stand da R che non lo posso prendere io ce l'ho già se c'è da K scarele mettetelo ce l'ho questo casino la smoke che ha lanciato il smerino il 70 20 scusa questo è 20 no 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 perché 9 mm a chi servono? a me non servono più no perché no 130 di 9 mm beh ma almeno 9 MP l'ha trovato? eh? cos'era sto spar infatti senti che arma c'aveva ho l'S12K oh mamma mia gli sparo proprio un culo no ahahahahahahah quanti? t'hanno fatto? no non ancora ah mi hai sentito po po ho detto è morto testavo il mini il S12K non è male no? oh il mal 3 hai capito oh un 4x sta piando per culo eh? no uh mo si m4 no sta piando per culo stanno per fai eh? tu conta bene perché c'ho così poco spazio? ah perché c'ho? non c'ho in alto senza veste non c'ho la veste nemmeno dai no 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 assurdo assurdo andrà a trovare la veste subito la merda di sfine qua c'è nel mal 2 allora vediamo su sta scala qui c'è una padella quella ce l'ho non manca la veste vedi un po' ah c'è un Mp svelo vuoi? no hai una testa di cazzo ah scusa pensavo di essere mutato no serio sve se ti trovo che c'hai l'uzzi e non ti sei piando l'UMP ci rimango malissimo mi devi venire proprio a parlare a casa mia cazzo io non ho l'uzzi e che c'hai? che ha detto che ha l'uzzi? hai sentito? oh la barriera c'ho l'S12k bravo sve bravo sve come ti dicevo l'S12k? perché? buono è in culo e buono è buono qui è buono qui tu sei una merda e quindi pensi non sei buono è buono è buono è buono è buono ah una veste è buono qui è buono di cosa è buono qui comunque ora la barriera ci disintegra è buono qui è buono qui è buono qui è buono lì è buono qui 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 se non troviamo una macchina che rendete ogni tanto utile se no trovo la macchina trovo il famoso stepk la trovo la sks senza mirino è a post beh almeno con red dot te la menti pure madonna fa lamentate se c'è la s12k allora che deve dire penso che è piato l'ump deve stare muto in mezzo ai campi non le trovo le macchine campi lì gustiamoci se ci abbiamo bibite ricorriamo pure più veloce eh zolta questa cosa adesso non la sai di un bel bibite ti va veloce quindi vuol dire che c'è solo qualcuno qui c'è una? una barchi eh scusa non è spawnato sono nel mezzo a un campo ah si 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 sono entrati in mosen stanno dentro la barriera verde blu si si fermati lì alloce eh 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 vamoooos vado a prendere loro vado a prendere sefi dove ci vediamo? no lo so dove volete mettete un segno vado a prendere quel malato poi vediamo no comunque si chiude più qua roi ti metti il segno può essere pure a san martene vediamo 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 Grazie a tutti. Guarda che pilota. Ah no. Tirano. Barano a destra. A nord. Molto vicino direi. Sì. Siamo giusti giusti. Ecco qua. Ahia gli sparano. Spero giù. Ah no. Chi è che non ha sparato? Va davanti a me. Davanti al 340. Vai appena c'è il visuale fermati. Vai. Bravo bravo bravo. Oh dacci una mano ragazzi. Eh ci so. Da dove stanno a sparare? Uno è giù. Che direzione è? A fianco sinistro della casa. Con la casetta. Da uno a terra. Poi l'altro non so. Saranno dentro. Assolutamente. Sta bene Zota. Ce l'hai pure? Sì. Il giro da dietro. Mamma come è andata bene. Ma c'è è andato subito a terra. No no no. Non era l'ultimo. Eh occhio che questo vi fa la sorpresa. Sto arrivando più vicino. Aspetta fatemi cura vita una mano. Qua non vedo nessuno. Non c'è nessuno dentro. Strano bravo. Vabbè lottiamo dopo. Lottiamo dopo. Vediamo chi ci sta. Molto molto. Quindi questo era solo? Dai non ci credo. Cazzo staffa questo dove? E poi l'altro team c'è la metodologia. Sarà a camper A. Occhio. Andate in due al minimo. Mi sembra strano a camperi. Dai. Dobbiamo andare comunque. Siamo fuori. E anche di tanto. Come 0 SMG c'è qualcuno? Mi serve la punta R. E qualche pezzo per il car. Andate raga 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 raga. Era bloccato questo. Era bloccato il 2. Porca ma l'abbiamo andate in corso. Siamo fuori una cifra. Mi son cagato in mano. Pensavo di rimanerci secco. Anch'io. Sì quello è un classico. Se c'è tutto il team. Sì. Se c'è tutto il team. Ti sorprende che arrivi col veicolo. So cazzo. L'ho beccato. Cioè un 4x in più? O un 2x? No. L'ho beccato. Mi son riparato. Mi son pulato. Ha tirato una granata. Non so dove l'ha tirata. Perché mi sono affacciato. E ho sparato 3 volte. Si è affacciato. E ho fatto elicit. Ma è morto. Lo vedo. Dove? Hai scappato verso 50. Verso nord est. Si è allargato. Si è andato proprio lontano. Sì ma penso che c'hanno la collina lì. Perciò ho andato lì per girarsi. Eh scusa si è fermato. Ci spara. Aia. Ma noi dobbiamo entrare per fuori. Cazzo si. E allora. Tira a me. Tira a me. Tira a me. No tira pure a me. Tira. Aspetta aspetta raga. Aspetta. Eh ma non c'ho stato ancora. Zigzag è proprio ignorante. Senza sapere se spara o no. Fate comunque il zigzag. Senza l'arma in mano. Non vi fermate. Continuate a correre. Eh aia. Mi è arrivato proprio vicino. Aia la madonna. Ma perché la devi cucinare quella cosa tre ore in mano? Se ti fa sta fermo l'animazione. Perché a me poi? Dio cristo. Ce l'hai cura Sve? Eh Sve. E' bravo. Bibite ce l'hai bibite ce l'hai. Eh. Ma non è cazzo che sfida. Torni per me ti rompi i coglioni. Ma non è stavano unì. Hanno preso la moto. Hanno preso la moto. Sfascio. Dove? Ah. Parere. Abbiamo preso la mia cura. Correte. Correte. Lasciate sta. Testa della merda. Ma perstai dei due bibite. Pensavo dove di più. Chissai che erano usati due prima. Dio cristo. Siamo pure fuori. Zotaro. Pare un maradoneta. E per esempio gli hanno messo un petardo in culo. Non fai rumori di passi qui sopra? No. Pare che no. Un grande bug. Comunque nel test server Sven ha già stato due cose. Tipo che quando cammini su certi tappeti non si sentiva prima. Ah. Oh macchina qua. Andiamo al palazzo qua di fronte. Anzi entriamo dentro proprio. Curiamoci e poi ripartiamo. Dal palazzo ancora di fronte. Aspetta aspetta tanto dovrei curarmi. Cioè per esempio a me ne puoi spara così tanti. E vabbè ma porco. Dai dai dai. A me li tira subito giustamente. L'arma più giusta per sparare la gente. Allora dovrei mettiti pure a rischio capito. Non c'è nessuno. Vedati. Dai struzzo po'. Quella terra non lo sparano mai dico. La fortuna è che siamo vicini. Allora possiamo vedere. Emo riparte la barriera. A me non per side due bibili. C'erano. E' il sito in merda. Si mettono un miniquattordici. E' campero. Come schifo Zona. Zona ha fatto anche passos. Sì. Non so. Non amo. Bibide ce l'hai? Sì. Troppo a sinistra non troppo lontano. Rischio di sto cazzo troppo di merda. Vuoi entrare dentro qua? Eh stavo ancora fuori. O guardiamo dove si stringe e poi si parte. Eh guardiamo dove si stringe e poi si parte. Questa è aperta. Eh certo. Ne vedo uno. Sarà uno. Steffi. Oh. Guarda un po' la mia visuale. Ti sembra uno quello là che si muove di lontino? Faccio il tasto destro? Ma non si vede più il tasto destro. Ah si è buggato. Sembra che non stai più usando il tasto destro. Ah no? Bene. Nello spettatore. Allora. Deveva fare il giro largo Sve. Dai. Hanno aggiustato pure queste cose di rendering di certe piante hanno detto. Qua c'era il drop però. Lo so. Là c'è il drop. Proprio di fronte. Sfasciano là eh. Dici? Sì. Che vuoi fare? Continua qua? Eh. Se vuoi fare il giro largo. Fammi il giro largo. Tanto purtroppo... Non abbiamo tante alternative. Sento schioppi brutali tipo M24. Eh di fronte si stanno a sparare. Minchia. Senti da. Sto vicino. Dai piano. Ci abbiamo un minuto. Ci abbiamo un minuto. Vedo gente a nord-ovest. Lontana. L'altra parte. Donna cara. Chi è? C'è uno qua di sotto. C'è uno lì sotto. L'hai visto? No. Sì sì. Sotto a nord-ovest. Mi stanno a sparare. Uno sotto in strada. Io non c'ho un minuto. Ciazzo sparo. Guarda. C'è uno anche sulla collina. No. Dai affanculo. Barriera. Donna cara. Corri sve. Ah beh. Lato stretto dai. Beh ma è lato stretto. Abbiamo una stronzi davanti. Porco due porco. Di dietro a casa sotto. Di dietro a casa sotto. Di dietro a casa sotto. No. Il Groza. Dei tu madre. Il Groza. Ecco che è il problema. Grazie al cazzo. Stai con il Groza. Figlio della merda. Il Groza è troppo potente. Una sciulla. Affanculo. Lui è il Groza. Otto rimasti. E va a p. Il drop. Con poca energia. Ok. Si sta a cura. No. Il Groza l'ho allevata io. Eh. È rimasto così con quel poca di energia. Cazzo di Groza. Porca madonna. Ah. L'ha appena di Groza. Eh no. Eh. Sto stavo anche fin troppo. Fortunato in questa partita. E non dai. Non attenzione. Non penso. Se è vero l'arte busy. Te lo dice sempre. Poi dopo due volte va. È una merda. Ormai è il messaggio standard. Che c'è. Sto cazzo di gioco. Meglio a tre volte. Dice due volte. Ah. Per me in manutenzione. La vediamo. Dici proprio che c'è una giornata. La donna sempre. Tutti i cazzo di giorni. Ma vedi. 24 MB di aggiornamento. Così. A voi vi è entrato? No. Eh. Manutenzione. Vedi un po'. Manupensione. No. Infatti è manutenzione. Ma che cazzo. Però tutte le settimane. Tutte le sere. Veramente. No. C'è un... 24 MB ogni giorno. Sì. Ma hanno messo molti test serve da 6 GB. E hanno detto che poi. Se i cambiamenti li rimettono tra una settimana. Quello normale. Ma no. Già sta in manutenzione adesso. Cosa? Ma soprattutto. Quando cazzo mettono la... Dovevo terminare il gioco? Oppure se l'avevo chiuso? Perché se no. Mi piaceva fare l'integrità del gioco. E vede se c'è un aggiornamento. E' rimasto aperto nei processi. Coom. In arrivo. Combattere i guerrieri blu. Quam, 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 quam. Eitz. H.E.I. Oddio. Oddio. Hanno fatto l'aggiornamento. Lo vedo. 6 GB e 4. Quello del test server. Un'altra volta. 6 GB e 4. Ah, ho capito. Che sono 6 GB e 4. A parte i cambiamenti della minchia. Secondo me sono quelli della mappa nuova. Perché era 6 GB e 4 pure quello della mappa nuova. E hanno messo la mappa nuova qua. Quindi ora stanno aggiungendo le texture della mappa nuova nel gioco. Perciò sono 6 GB e 4 sia sul test server che mancava lì. E a qui che mancava ancora questo Savage, questa mappa nuova. Però sono solo le texture. Quindi dopo la semplicemente l'abiliteranno con un aggiornamento. Che palle. Perché adesso? E' meglio ottenerlo test server. Eh sì. Perché per esempio un po' che non va. E capita pure spesso e fanno questa manutenzione. E per esempio vogliamo giocare ancora. Apri il test server e va. Mentre qua è manutenzione. E come facciamo questo vizio di fare aggiornamenti a orari tipo le 3 e le 4. Quando giochiamo noi. E tenerlo pronto magari. Vedi c'è 9 minuti però. Non è tanto lungo. Cosa? Perché non è un cristo. E c'è 4, non è tanto lungo? Eh secondo me usano la compressione. Perché mo' mi ha fatto solo 1 giga. E mi dice che mancano 9 minuti. Quindi buh. Pare che va più veloce. Spero prima quando ho aggiornato il test server. Pure quei 6 giga. Mi ha fatti una decina di minuti. Questa pure la compressione a stile. Che fa sembrare che sono 6 giga. Ma in realtà sono un po' di meno. A livello di band. La squadra per il... Vedete un po'. Vedete un po'. Se no andiamo direttamente sul test. Quando possiamo mettere in posto. Io sono di aver avuto dei compagni che... Che hanno buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo. Hanno fatto una partita di... Però il test mi sei a tutta, ma non ce l'ha. Ma lo è scaricato. C'è no ma devo aggiornare anche quella. Anche io sono del gennavo. Però devi aggiornare come se non ce l'hai. Perché se di giga non ci mette un giorno. C'è un po' di band. A parte che non ho neanche spazio. Facciamo i complimenti. Ha meritato sono... E io il massimo creativo è... Ancora. Grandissimi tifosi. Sono stati veramente... Ma lo ho sistemato... Per il mio spazio c'è un programma che ti comprime. Ciò ti fa il di gioco. E poi ti comprime tantissimo. E tu praticamente li puoi usare i giochi senza nessun cambiamento a livello di caricamento. E niente. C'è praticamente è una cosa che ci guadagni e basta. Fatta apposta per i giochi. Infatti c'è uno tipo... Un sito dove ti fa vedere che questo gioco lo comprime a da 16 giga a 9 gigi. E tu praticamente non noti niente a livello di rallentamenti o caricamenti sono sempre uguali. Ci sono diverse codifiche. Basta che metti quella X16. Che non è pesantissimissima. Quindi ti... Ci puoi giocare tranquillo. Fatta apposta per i giochi. E' quello che ti fa guadagnare un sacco di spazio. Che vuoi comprire qualsiasi cartella vuoi. Quelle che usi di meno le usi la compressione massima. Eh, non farebbe male per il mio SSD. Per i giochi che c'hanno da SSD. Appunto, puoi metterci più giochi sopra. Come sto facendo io che comprimendo così. Quello di lasciare questi ragazzi. Una cinquantina di giga. Quello di sessanta. E niente, però la vita va avanti. Spero di... Quando ce ne avevo... Tipo dieci libri. Si chiama Compact GUI. Compact spazio GUI. Sarebbe? Eh, questo programma che ti dissi tempo fa svega e comprimeva i giochi. Ah, sì, sì, beh. E comprime qualsiasi cartella pure. Per direi 100 gira di batterfilme li farei a 70. Eh, diciamo che dipende sempre da che gioco è. Perché ogni gioco c'ha i file pesanti, c'ha i video. C'ha queste cose che sono più difficili da comprire. Però, per esempio, se ti dico PUBG di solito è 16 giga. Me lo fa diventare 7 giga. È esattamente così. Tekken 7 me l'ha fatto diventare 60 giga. Mi è diventato 22. Forse pure di meno. Ah, c'è un sito ufficiale, dove scaricarlo. Io, uno l'ho battuto qua, eh. No, quello lì. Eh. Bravo, è lì. Bravo. Bravo. Eh, però niente. Uno, tre. Puoi scegli le cartelle e tu d'accordo. Puoi scegliere le cartelle, nel senso che tu basta che le fai tasto. Adesso su una cartella ti dici compatta con... Ma quando c'è da fare aggiornamenti, tipo il gioco lì, come funziona? Di quale gioco? Tipo se lo faccio... Ah, sì. Allora, quando ci sono aggiornamenti su quel gioco, questo qua è il link. Qua ci sono aggiornamenti su questi giochi. Tipo pubblici. Ecco. Per esempio, a me per esempio è capitato. Adesso è aggiornata, dopo che l'ho compresso. Adesso è tornato quasi alle dimensioni originali. Quindi l'ho tenuto ricomprimere. Quindi i giochi che giocate spesso, magari, non è proprio una cosa che vi serve comprimerli. Perché comunque se diciamo fare il ricontrollo... Cazzo, io ci ammalo con una scala così. Noi ricontrollo, aspetta. Ricontrollo, comunque vede che i file vanno bene compressi. Infatti faccio il ricontrollo ai giochi compressi, tutto a posto. Mi dici, non devi fare niente. Non è che è tipo cambia lì. Lascia dei file che vuoi scaricare. Io vi darò un 360 alzio quando ho guardato. Anzi, tu non lo dimentico. No, però dimentico. Se chi usa un alcolitto, non so se io comprimo i windows. Ah, se io quel gioco lo comprimo. C'è più un po' di spazio e magari c'è più altra roba sopra le ardiste e complesso lo spazio. È molto efficiente l'aggiornamento di quel gioco lì e me lo riconta come la pesantezza originale. No, non lo vede alterato. Ah, ti... Non c'è più spazio. Capito? Ah, quanto la giusta che ci si riempie di lavoro. No, però ti assicuro che se tu lo usi anche su cartelle, per esempio, documenti, No, i documenti uso la compressione della 16 che praticamente è molto veloce, però potrei anche usare quell'altra pesantissima, LXZ, mi sembra così. Quello più in basso, è più pesante. Per rifare il statice che non ha prima. How many times do I gotta say? Ah, voglio farlo. I documenti. Però me ne metti quella là ti fa uguale in un sacco, però per il gioco non lo capcomando perché comunque ne caricamenti è luce. Questa X16 che sembra una compressione di windows 10, quindi molto di più. di inventare, semplicemente, avendo queste compressioni, ci sono diversi algoritmi, e windows 10 già di sopportare il padre, e si stanno anche in testo. Come, come ti ho detto, fanno da due quelle lì. E, evidentemente, il gioco è tutto, ad esempio, c'è un'intenzione di usare queste condizioni che ci stanno in windows 10, quindi non inventa niente, non attra niente in maniera strana, come io, per esempio, ho usato tanti mesi, e questo non ve ne ho ancora parlato perché volevo vedere come andava. da tanti mesi che lo uso, come sono quasi scordato da lì, però va una bomba. Ma se vado a vedere, per esempio, la cartera di origine qua, da 112 a 90, come 90 qua? E poi ti sento tutte le altre, ma quindi l'ho già provato a fare la prova di compressione, tipo, fare un'intenzione. No, mi dà... Ah, no, era una prova, ah, ok, vieni. Poi, puoi fare l'analisi, per esempio, ho compresso oggi, ma si è aggiornato. Poi se lo faccio, vado a vedere con Compact GUI, seleziona la cartella perché ti fa fa browse, no? Ah. Selezioni e gli dice analizza, controlla e dice questa cartella è compresso 97%, con file non compressi tre file, per esempio. Tu fai i comprimi, sempre con lo stesso algoritmo. Ma quindi ti fai tutto prima? Ehm, ti fai aggiungi che intendo? Cioè, non ti fai prima e fai due nuovi. I file nuovi non te li comprime quelli che va a alterare, perché? Ok, quindi. Sì, perché ti dà al sé per i scarichi originali. Ok, quindi, se un gioco pesa 16gita e te lo comprime diventano, per esempio, 8. Poi si riallarga, poi si riallarga e diventa un'altra volta grosso, ma non come l'origine perché non ha cambiato tutti i file. Ok, ok. Tu con l'analisi vai a capire se te l'ha alterato, se ti conviene rifarla e ti fai ricomprimi. Con lo stesso algoritmo sai cosa va? Comprime, c'è solo quelli che mancavano, è molto veloce. Quindi, al momento che ti aggiorni e ti aggiungono file, o ti modificano file con l'aggiornamento, quelli lì non sono più compressi. Ehm, sì, quelli lì non sono più compressi quelli che alterano. Ok, ok. No, io ho capito proprio tutto il gioco che ritornava normale. Ho capito, tutta la cartella ritornava normale, capito? Io questo l'avevo inteso. No, no, non tutto. Ok, ok. Va a vedere file per file. Quindi, conviene comunque, dai. No, conviene alla grande. Se tu, per esempio, vai a fare proprietà sopra e ti dici controlla la wiki, che sarebbe il loro sito dove ci sono tutti questi giochi. e c'è scritto, questa compressione comprime 8GB, quest'altra compressione comprime 10GB, quest'altra compressione massima diventa 6GB. Da ti spiegano, perché tutti carichano i loro dati per capire quanto hanno compreso col gioco. Play Run 1 non è riuscito a comprimere 7GB, quale compressione massima? E la fai pure tu. Ovviamente i dati si trovano, non è una lotteria, si trova tutto come quello che dice la wiki, insomma. C'è qualche esempio qui? Ecco, wiki, vediamo se si sta qui, in games, ecco, in games, ah, vediamo che gioco va a casa, anzi, voglio andare a vedere proprio PUBG. Eh, Dallas, non finito. Dots, dove vuoi andare? Ora devi andare in questo modo. Allora, ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Ora, 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 ora! Per esempio tu l'hai usato su C, e C comunque era il disco di Windows, ti servono comunque roba da amministratore Allora tu metti le spunte, anche se mi fai il sistema con le spunte in legge, ci mancano delle spunte a testa Allora, Player No Battlegrounds, con quella bassa, 8 gap, riesce a comprimere solo 122 megabyte, da 7 diventa 6,9 Con quella media, guadagni a 200 megabyte, con quella più alta, come vedete Sono diversi questi Comunque diciamo che non ti fa guadagnare molto su PUBG, però mi ricordo che abbiamo fatto un giga, ma non so se sono cambiati gli algoritmi o per farvi del gioco più pesante Ma qui ci sono altri PUBG, beh questi hanno messo un sacco di, ognuno l'ha rinominato come voleva il gioco Ok, I will, I will, I will, come back Non mi ricordo, ci sono dei giochi, ecco sto gioco Force action on files Got'em, got'em, got'em Left side of the Drain Shack, oh no no, left side of that house Force action on files Si, forza l'azione sui file, vedi se così riesce a forza la compression Nice, baby Per esempio questo gioco è AIMBRED, quello dove sei con la petta di pancarre Praticamente guadagni 1 giga, da 2 giga ti diventa 1 giga Però c'è un esempio più pesante Oh no Questo guadagni 3 giga, in su, c'è un si due Il gioco che non si comprime molto è GTA V, non era comprimibile, proprio pochissimo Quattordici giga, King of Fighters, quattordici Quattordici giga, King of Fighters, quattordici Questa volta Il L'Infloor 2 e 12 giga, guarda, uccchio Il L'Innoir 4 giga Eh, League of Legends, l'U5500, ma Gli apportati 2 per uccidere, guadagni L'inizio della fine della rapina Qui pochi hanno riportato la compressione massima L e ZX Andiamo a vedere Tekken Mi ricordo che quello era molto mostruoso quanto comprimeva il gioco Il Kong era un gioco da 60 giga, se non sbaglio Ecco, Resident Evil 7 Da 26 giga diventa 9 giga Praticamente guadagni 17 giga guadagni Eh, praticamente con la compressione 16 che non ti fa rallentar neanche un po' il gioco Let's go, Doug Get this guys out of here Woo Let's go Let's go Let's go Get this guys out of here Woo Let's go Let's go, Vincent Da 65 diventa 30 giga Chi ne vedi 29 giga Chi ne vedi 29 giga Perché la compressione stimata non me la dice? Perché certe volte non c'ha i dati della wiki per quel gioco Alex, are you kidding me? O perché è stata aggiornata, non lo so perché Però di solito Ma non riesci a capirlo a un secondo momento Per la stimata non mi ricordo se l'hanno aggiunto di recente Se faccio l'analisi o fa me la dica A me è finito l'aggiornamento, spero provare a vedere No, non mi ricordo di Windows 10 Non mi ricordo di Windows 10 Non mi ricordo di Windows 10 Eh sì, su Windows 10 Diciamo che non so se riesce a comprimere Usare uno da due ritmi Mi sa che è un'ottima Ma che per Windows 10, ok? Usa quelli proprio specifici per Windows 10 Quindi doveva riprovare Andavete Se riesco a comprimere PUBG un po' Ma secondo me è 200k Compact folder Col tasto destro Compact folder 16k Forza Action Non files Process hidden in system files Così Acchiappa pure i file di sistema Dice 16GB Stimata Cioè 3,16 Stimata È un esempio Quindi si perde i 100MB Ma io sto provando a fare Una compiazione super Puggy Cioè Già sta 40% Perché ne trovo parecchi complessi O un altro Perché trovo le nove Per comprimerti tutta roba che hai Però Alla fine ti assicuro che c'è Certo E' uno scherzo io su certi artisti se sono detto che per l'SSD va bene però non potrino per esempio come pubblici per esempio in SSD io eviterei io me lo sopportando lo faccio da parecchi però se per esempio l'SSD poi fa troppe letture e scritture poi comunque lo fai a sfruttare troppo l'SSD lo fai di fare delle prestazioni a lungo tempo ovviamente questo non è chissà che cazzo gli fa però comprimilo quella volta e poi non lo fare più nel senso ho precisi aggiornamenti o te quei file li cambiano spesso una buona parte del gioco e il resto che rimane non te ne frega perché comunque sono file li cambiano spesso così l'SSD 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 eh vuol dire che lì ci puoi veramente fare un sacco ecco è sceso meglio del questo che ci ha stimato qui 13 e 5 a me ha fatto 13 e 4 adesso vuol dire che non è aggiornata quella cosa riduzione del 2% come? come do you want to come inside and like have some coffee? you know? and the she'll be like haha oh she's charming she's so so funny she'll be like you know? and then you kill her that's fine dude he's gonna hear you so I gotta go Funziona bene, l'unica cosa è il GTI A5 che è perdita tempo. Se mi dice che questa carattera normalmente pesa 14.7, adesso non mi dice come diventa. Forse devi fare qualche compressione e poi te lo dirà capendo come non so. Secondo me questi dati li doveva già tenere. Forse lui ha dei dati su come è rinominato il gioco, era rinominato tempo fa, magari ora è cambiato ci hanno messo due punti, di capitano attività o qualcosa del genere. Perché di solito comunque la tiscia può essere la compressione stimata. Comunque tutti i A5 mi fa guadagnare un giga. Mamma mia. Comunque è 74 giga di base, ora è 73 a me. Però è pesantissimo, infatti ci ho provato lo stesso. Con l'A5 mi vedo quanto mi ha compresso. Con l'A8 4. Un compresso di 600 megabatt. 26 giga. Il primo era la 26s. Spammy, benvenuto. Ti stai guardando Pornet 3? Si, ti compri un po'. Però Zota, se tu hai una cartella con 50 giga di Toki Stima, chiapa una cartella alla volta? Oppure tutta quanta la puoi fare? Penso che non ti fa niente. Io ho chiapa tutta la cartella Origin. Ma quella è troppo grande. Posso non fare un giocalone. Ma non ti fa proprio nulla. Manco con un giocalone. Nooo. 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 Non ci sono un giocalone. Non ci d'è più di nuovo. Non ci sceglie come domani. Anche perché mi hanno risolto le scondessioni profondi, e non mi hanno risolto la libertà. Vado sempre a 30 mega. Quindi è più stabile? No, ora è stabilissimo. Non si disconnette mai. Però sempre a 30 mega. Ho riaperto un'altra sinnalazione. l'azione per non sistemate quella cosa ora è usabile via troppo vado alla metà di quanto andavo prima prima almeno 70 80 io lascio il pc acceso aggiorna io ci sentiamo domani bella bella noi apro il test che dov'è fare? apro il test oh my god cancella il mio c***o il tuo non panico eeeh sono 100 ma devi migliorare la sensibilità a me sape che non ti sento oh mi tocca cancellare battlefield c***o 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 quanti... quant'è il... 500 500? vabbè ma c'è tutto sull'SSD c***o esattamente ma fai come a me c***o eeeh ma in che senso? c***o io c'ho tutto sul WSD black tra quelli normali non sono radio ah ok e ne ho anche uno c***o molto a metterci la roba lì c***o uno da 8 tera eh c***o diventati così era bene dall'archività 4 più 3 più un esterno e poi l'altro invece aveva l'altima io sono da 500 devo aver fatto una cagata ne sfrutto solo 300 perché l'avevo clonato che ha fatto avevo clonato da un altro disco è praticamente mi risulta per recopiato la partizione così la puoi aggiustare c'è stato un programma che si chiama aspetta a concluo da 8 e ci avrò è 7 g e 30 alla fine da 8 da 8 terra lo comprai della seagate presente lo uso come il programma si chiama aomei partition assistant e questo qua ti fa a cambia qualsiasi cosa delle partizioni puoi estenderla poi insomma non ti fa casini può clonare pure con quel programma può clonare tranquillo download freeware non lo provo mi recupero questi gigabyte sono al posto qual era quel cazzo di programma che cosa le mie memorie stanno messi in parallelo giusto basta me lo ripeti che stavo scrivendo una cosa io sto scrive io sto parlando normale se tu che c'è una nota fatta gracchiato pensavo avessi messo no non sto gracchiando io mi sto parlando normale come sto parlando adesso certo che lo stai gracchiato e zotaro e zotaro che gracchia no è che forse si è avvicinato un minimo per ripeto ma c'è una cosa che cosa ti giuro che quando l'ho ripetuto ho fatto la gracchiata ho detto è il programma che per vedere se la ram messa bene in parallelo la a se la ram in dual channel allora devi usare c più trattino z z e si come la z che vedi nfps non vorrei che scrivi z c più c più c più trattino c più con la c e trattino z la lettera z e sì 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 l'ho trovato ma praticamente devo unire le partizioni e con quel programma puoi vedere lo spazio che hai lasciato libero insomma puoi unire la partizione ecco se tu la unisci dal tuo hard disk una parte che vuota non ti fa casino cioè non ti fa perdere quello che c'hai di dati dalla parte della partizione che ti serve questo però c'è fatti un backup che questa sicura manca o ce l'hai il test un backup dove me lo salvo backup non lo so non lo so ripristino quelle robe le oggetti del server devo selezionarli tutti e no spuntarli tutti e due sia il c che quello non ha allocato fare modo di unirli qua però stai attento cioè fai un backup qualche modo ripristino quelle cose lì fatte in punto di ripristino che ne so non vorrei che ti perde dati insomma poi quando tu hai finito di questa cosa fai applicare lui dice ok devo applica devo riavviare eccetera eccetera sicurati che il programma sia aggiornato in modo che non c'è una versione che se bagga sul tuo sistema operativo magari lo trovo un modo che vendi oggetti tipo mette un po' i nostri oggetti mille euro che ti devi vendi a me si è frizzato pure a me ah no ok ok si è rieviato adesso chiaro non me la lo dite ma questo è la corruzione non creo direttamente una partizione così ancora c'è meno rischi bravo perché non c'è il server europeo? eh non c'è non c'è perché noi paghiamo meno il gioco no? noi siamo clienti di serie B no scherzo lo paghiamo uguale è solo che mi fanno girare i coglioni che non mettono il server europeo ah ho scritto pure a carmela ha detto a maria carmela ha detto che non riesce a venire ah sve ma che cazzo stiamo facendo c'è pure abba ti usciamo esce mi sono distratto che stava a scrivere con uno su steam che mi parlava di uno scambio scrivi a maria carmela che è una sola delle sole delle sole delle sole ha detto che ha detto no io devo ancora scaricare i file del test server ha detto a dire che una sola proprio ci stava almeno a guarda lo stream ha detto che le piace pure a lei quel programma di compressione ah però ma cerca così la partita tu zotà quanto tempo? mi ha fatto al volo ah hai fatto già? si ho recuperato tu eh bella storia bella seffi tuttama mi sono tutto il cazzo di risolveste cose così risolve tutti i problemi oh ti giuro se cose volevo farlo però eh pensavo di dover riformattare tutto non avevo voglia di perdere tanti no 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 sei un grande cazzo madonna mia che cazzo ho finito l'acqua dansefi e mo se vado in cucina sveglio o no faccio un casino bellissima storia quanto hai guadagnato mo? 200 giga? come? quanto hai guadagnato? 200 giga mo? di più sono ero a 2.30 adesso ne ho 4.65 minchia minchia si ma anche tu eh vai calma ragazzi è grande eh mo se non c'è il test server mi incazza insomma cioè ho tutto il suo spazio si adesso mi ricco tutto e beh ma che hai fatto tramite quel programma che hai fatto? hai tolto quella parte clonata? si si praticamente si perché non me la leggera neanche così la parte che era vuota lui è come se fosse nascosta come se fosse una partizione che ce l'hai vuota libera però non la stai usando per niente allora ma che cazzo avevi fatto? soggiornamento allora soggiornamento non te lo spiego avevo per non perdere dei giochi a cui giocavo il periodo avevo clonato direttamente il disco e clonandolo mi ha praticamente clonato anche la capacità la capienza di equip si ti ha copiato tutto quello quando clona non è che guarda c'è spazio lo devi estendere di nuovo e copia tutto proprio la grandezza bello che avevo chiesto a uno un tecnico qua cazzo e no è un casino ormai ero va a fare il culo devi chiedere ai sviluppatori quelli seri i developers vedi mo caccia sti 30 euro a Simone che ti ha fatto l'assistenza via comunque niente l'aggiornamento si trova parecchio sulla barriera che si stringe veloce eeeh what the f**k quando cazzo fa questo eeeh quando per esempio arriva con la pira il primo cerchio ok 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 ora c'è l'alloros c'è sempre il primo cerchio su miramar solo su miramar eh ma solo per dai che lascia giocare ragazzi ci vediamo domani bella bella fatei bravi e ammazzateli tutti magari più problema grazie ancora fate che finito ma no hanno dato i vestiti ah leones allora hanno dato i vestiti rosa leones che è capo stazione anyone went far che cazzo hai lì what ma è la mia impressione o meglio gioco eeeh speak to Sephiroth no no it's a f**k ho hai detto che soffè come ti permetti non ti ha sd perchè so che ti piacciono gli amici te le social? you hear me? I hear you ok che tutto buio oddio caro adesso accendi la luce e l'ho accesa infatti adesso ah quello era v***** ma scusa che cazzo devi vedere quella luce accesa che ti cambia? lo schermo è retroilluminato sono normal hai trovato un grosso buon uzi il groza hai trovato? il groza e l'uzzi adesso come ti reagisco con i cancris ah si se vi capito hanno messo il trolla o hanno messo veramente le armi? ma ancora credi a sto malato? dove si spara uno? è un nemico e ce l'ho pure vicino perchè l'ho sentito proprio qua vicino sto vicino a V più o meno non sto subito da me vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma come non è morto questo? vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua chinig decir vieni qua campers vieni qua vieni qua ma come che è? io.. ho evitato il chú c'è il lettere è più forte di lui sei sicuro? sì vieni qua lega un po... qua 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 vieni qua ciluk απο Aspetta c'è un SKS qua che me lo tengo per dove Tanto quello se sta sopra non si muove da lì, non ti preoccupare The camping No, è uscito, sta sotto di voi Grazie, è lanciato No, c'è i buchi qua Eh, spero che avviene qua allora Boh, non l'ho visto, sto facendo ma non lo vedo Eh, un cesso è sereno Non è male, il problema è che c'è l'SKS, non vedo il motivo di toglierlo Dai, andate a morire, potete mettere la cura Ahahah Ma moriamo, aspetta Eh, calma, calma, calma Che stronzo, non ci vuole far capire Sotto, sotto, sotto Sotto C'è un 4x qua Una frag che mi serve proprio C'è nessuno con loro a qua, sve Tu? Come va? Lo vedo, lo vedo, sta... c'è 215 entrato nella casa di fronte, push Pusciam Destro Salito sopra Ma vaffanculo, salito nel senso Ma vaffanculo, salito nel senso Ho finito i colpi No I 13 13? Ahhhh Stavo scappando da lui, mi sa che per quello che pensavo che non mi piace più ormai Non ci credo, comunque Masticare una gomma da 20 minuti devi fare magari E continuano a masticare, cioè... Come dire, a masticare Oh, Mosconi! Devi reddare, voglio giocare Oh, devi stare calmo, pordio Quest'altro che parla come l'ombia, devi reddare Devi flankare, devi piccare No A lombia che fino a fa... Che cazzo, non so Ho iniziato a giocare GTA V, poi non l'ho sentito Il paradiso degli stronzi Prima si faceva vedendo lo stream Ma non... Sto faccio più Che schifo GTA Eppure era molto... Oh, ma che schifo Ma non è male Non è male per... Che cazzo è già Bel gioco Anzi, se facessero così GTA... Fai i foccal Fai i foccal Fai i foccal Ho ottimizzato bene Giocarei ancora da oggi Anzi, se ci vuoi giocare Si muove qualche volta Io... Eh si Anzi, hanno messo pure le macchine nuove Ah, quando i... Li trolli No? Quando trolli il quarto Tipo fucker Ci dice queste cose qua Giocano male Può essere che tu... Può essere che tu... Può essere che tu... Può essere che tu nelle squadre fai sempre così E lui poi... Inizia a pensare di stare in un team Di gente a caso Tu fai vedere che sei serio Pure lui dice Ah, c'è comunicazione Giochiamo Sento poi inizia la madre Sento poi Sento poi Secondo me ti riporto Eh, mi riporto sul test server No, no Viene bannato proprio nella vita reale Se viene bannato su test server No? Si Non lo sapevi? No I don't get I don't get Why they shovel the circle right away Eh, go to the north Oh, anesthetic Hello Hey Ah, vabbè How long is your dick, anesthetic? Ok, va bene We've lost Just, just to capisce No, no You're going to pick out No, no I'm going to pick out No, no I'm going to pick out No, no I'm going to pick out No, anesthetic Go to Chumacara You're finished You're finished You're finished Well, go Hey, go Hey, Dio So, anesthetic Where are you from? Nothing From Poland From Poland If you get killed later Because the second I'm fired I'm fired I'm fired Tell me How long is your dick? Che cazzo Ma tesoro Poi Come ti hai chiesto Sai che significa? Da quanto tempo è il tuo cazzo? How long? How long? No Giustamente Quanto tempo è lungo il cazzo? Da quanto tempo è lungo? Da quanto tempo è lungo? C'è un cazzo nel bagno Mai visto C'è un cazzo nel bagno Morto Che cazzo mi diceva? Che cazzo mi diceva? Magari non carriare Ma porca puttana Guarda dove sta quel cazzo di cancro Eh, ora che fai? Uh, il medito! Fammi vedere come giova Lo sapevo che arrivava l'arma Guarda quanti sono! Mi faccio un po' di sola Vabbè, io vado a morire Tutto arancione c'aveva Siete morti? Andiamo Gioete già rotto il cazzo, lo dico già La prossima cagata Mi vanno a fanculo tutte e due Così sempre giovasse Prendi i miei posti Perché non ci volevi andare là? Tanto siamo sul testa Voglio farlo Voglio farlo Non ti cambia niente Tra qui il testo e il set Ah, che cazzo Dai, dai, dai Possiamo andare a questi posti Non ci volevi proprio venire Prendi in questi posti Sparare sul gioco Sparare sul gioco Sparare sul gioco Ah, ma perché tu avevi capito E come cadi in mezzo Tu hai capito che andavamo in altra parte? No, peccato ci sto pure io Non so se... Ok, così la smetti di parla Così duriamo da Natale a Santo Stefano Ma basta Non lo fa cambiare Eh, non metterai di Abate Perché sennò... si bug Guarda, rimane così e... Ok, bye, 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 bye Niente, mi pare che non va a Trimesc Non me lo fa cambiare Eh, grazie, sta ancora in gioco Ah, svei, esci, cazzo Il ragazzo è f*** di idioti Dice che siamo idioti noi Eh, beh No, ma... No, ma... Ma detto Eh, Sephiroth Emisphere Niente Dai, guida, muoviti Ecco perché non mi faceva cambiare Non lo so Vedi? Un'altra cosa non sapevo Sì, eh? Che stavi in partita Non so come vedi quando sei in partita Cazzeggià Così ti posso dare in testa Oh Mosconi Sì, eh? Muoviti, voglio sparare Fammi sparare Lo dico un poco là Accendo Napoletano Voi sparare Prenditi una pistola Ci sono persone attorno o no? Oh, sì, l'anime è qui In questo aggiornamento Puoi cliccare la gente Dalla... Dal team, praticamente Oh, finalmente Cicca Mosconi Eh, andate a f*** di due Va, va Fa la coppietta... Dai, veramente Vogliamo giocare o no? Aspetta un attimo, sì Dai, ma lanci una granata Aspetta un attimo Ha detto A me A te, a te A me Vabbè, vado a parlare un po' con quelli sopra Ma non c'ho... Posso? Mi dai la boss sword del celber capitani? No Aspettai Che devi fare? Devi andare a spottare quelli Sì Io gli devo andare a dire che sono... Altro team vengo qua e vede le stratte Eh? Oh, Musconi Eh? Eh? Stanno facendo un gioco complicato Che gioco complicato? Pokémon No No Se gli ultimi due giorni stanno giocando a Pokémon Non ho capito il cazzo stanno facendo Di solito Quale è un altro? Non lo so Stanno 7000 versioni Mi scarica roba speciale Sarà un gioco per PC quindi Stanno 7000 versioni di Pokémon Poi io vedo che mettete ready di continuo Dai vai mettimi E per ora non mi fa mettere le scuole Vai e metti Restart Penei clicco le scuole Vi do il ready e lo rimette Vai Restart Ah ma siete voi che mettete ready? Non mi provo a fare Restart Lobby Ma si ma start Pure se c'è un articolo se vuoi sparare Ma vuoi mettere uno la mossa? No non va Sarebbe start B Sì Il gioco è così Un po' sul test server Nord America Non c'è stato Non aspetto che ho fallagato Dai ho messo red Minchia Il Sventrax 70 Oggi lo vedo più attivo del solito Sventrax Eeeh Mi sai che ho messo il 3m squad Ma che cazzo Secondo me squad e non trova l'ultimo che vuole fare 1m squad Anzi non trova l'ultimo che vuole fare squad nonostante è stata solo Il 1m squad o comunque ti trova... Cioè non ti mette compagno Oh si va peccato eh Hai rotto pover peccato te D'accordo No Ci vuoi andare? Ci vuoi andare? Ci vuoi andare? Non ci vuole andare Io vado per conto mio Allora facciamo un accordo Te lo dico io Te lo dico io Ognuno vado per cazzo vuole No 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 Possiamo fare una cosa diversa No Due partite Due partite in posti pesanti Una partita invece strategica Perché vi sembra brutto così? Oh ma che hanno messo qua? Che era questo? Non ci stava Ah si c'è una nuova città Allora dicevo C'è una nuova città adesso Vedai questa qua dove ci ho messo il segno Alcantara prima non c'era C'erano solo le rovine No lì Ormai ci stanno i rivani là Andiamo assieme? Beh ormai è peccato Peccato? Beh vuoi andare? Vai vai Facciamo due partite belle così E poi andiamo prudenti Lo sapevo che andava dritto Vai vai Lo conosco Minchia sveglia Veramente no Non ci siamo pronti Non ci siamo neanche un po' Perché non vuoi andare? Basta che spari Vai andate Sì sì No 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 Lui se muore nel gioco Soffre veramente nella vita reale Ma devi imparare Disse con lui che non vuole mai andare a cosa? A campo militare A militare Eh appunto Tu vuoi andare sempre a campo militare Se si trattava Vedi quanto sei infantile Se si trattava di campo militare Già stavi là No veramente La prima volta No no Cazzo mia Perché devo andare a peccato Che un posto del cazzo Mi fa paura peccato E' uno dei posti più belli Ehm 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 Nei cartoline ti hai peccato Mi spedisco Tanto Ti pare se non trovo lo scarso bambino Non l'ho ucciso a questo Ma ce ne aveva uno vicino Si su due amici Ma come non è morto questo? I colpi di bomba Pure a me mi ha fatto sto black bag E' stato velocissimo Si abbia E' stato velocissimo Si abbia Il Come si chiama? L'oscarelle Che si parla proprio Un attimo Ah vabbè Mi vado a f*** di su Vendracks Stai nuotando con la macchina sott'acqua? Ehm Io voglio giocare gridio E' solo gridio Dai Giochiamo Come cazzo è? Giochiamo Che cazzo è sta cosa che vai a nuotare sott'acqua? Ah si Se gioca il running E' andata il running simulato Anni pc Il running simulato con la macchina Tu non c'hai voglia più di giocare secondo me Quando non c'hai voglia non gioca Ma si ma di che stai andando fuori? Che cazzo? Cioè ti è passata la voglia Se no c'hai i passi in stand ovunque Vedete proprio Quelle volte proprio ti sdegni Già lo so che è finita la voglia di giocare Ma la fate passassi Ma si Ma perchè è quello? Ma quale ti fai con le partite a luttare 40 minuti poi vai fai e ti muori Ma se così ti diverti? No vabbè Ma così ti alleni D'è nato quell'arto malato Oh Eh 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 Ci sto Però io capisco Se volete giocare veramente con la voglia di giocare Oppure non c'è bisogno che giochiamo Assurdo che Non è obbligatorio Se non ci avete voglia non giocate Ah non aveti Cioè stai anche dando del plurale Cioè stai anche dando del plurale Cioè stai anche dando del plurale stai Soprattutto quello che non ti calcola le stanze Cosa non ti calcola la distanza? Oh Oh Mosconi Eh Oh andiamo a peccato eh Oh military Perchè fanno solo sta mappa? Mu che palle Che sembra questo bro? Oh Eh 份 Hey My Pettacol Ma Mi 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 S Mi 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 come on give me your sunglasses please comunque la parte di sopra a nord questa antara sui villaggi qua hanno messo un sacco di loot livello alto c'è la parte nord adesso c'è solo livello alto di loot andiamo where do you wanna go? i don't know wait till we get in game so we can see the circles circles we just go to Picado my friend Musconi just like Picado it's fine look at that look look we are going to Picado Picado non c'è la roba buona non c'è la roba buona che c'è al nord della mappa come ti dicevo la scontrazione che andò totalmente impazzito sono mutato sul TS ah ottimo ecco perché ecco perché non mi senti mamma dai ok non c'è la roba buona non c'è la roba buona non c'è la roba buona Alla luta tier 3 I'm dead Oh, perché mi ammazzai? No, doi Ho visto il nickname troppo piccolo Quando si è avvicinato Pensavo fossessero tutte le lontane da me Ma scusa, ma tu sei sempre così il personaggio Ti vedo diverso ogni volta che ti vedo Ti cambi i vestiti Dammi un medico Non ce n'è S'appena sceso Ma come fai? No, avevo fatto 3 kill Dai, te lo trovi To Qua Vesta l'uno qua Dai, giù a te Che poi ho un colpo in destra Che poi ho un colpo in destra Ah Mini 14 qua Mini 14 Ah, sei andato quello? Ok Caduto i torti Eh, nemico Dove? Due Dove? Due Aiaiaiaiai Quasi morti, ne manca uno Si va Ho messo lì Uh, mi ha dato la kill Bravi Tutti con il fucile a pompa Stanno nella sienda Tutti con il fucile a pompa Cioè Una volta che lo trovo io Ce l'hanno tutti? Eh, ora devo trovare il ghur Però lo è bene Grazie Sven Prego Quindi siamo riusciti a sopravvivere Che onda? Si vince facile ragazzi Ah, per la roba che trovi dopo se sopravvivi Si La cappa se vuoi Ok Vieni qua Vieni da me Sto curando la piscina Tanto qua non penso che mi mirano Quattro ore non ce ne so più Dai ragazzi, io ho 5 kg Ci sono un medico Ah, sto usando le bende per adesso Va bene La cappa qua te vuoi? Si, aspetta vedo questa stanza che è ancora chiusa C'era un cazzo Arrivo Mi sono rimasto poco male quando mi è messo qui Ah, ho fatto le kill adesso su col compagno Boh, mi ha messo qui Una volta che è giusto così Dovevi... Guarda io ti dovevo finire Però non mi è venuto... Cioè, mi sono dispiaciuto Mi dovevi finire Perché sei una merda Prima ti stavamo a parlare Mi sono mutato su TS Che significa? Ma è l'oggio ce l'avevo a Dio qua No, no, no Si Non ti avevi detto che... Che il LUT alto era tanto No, tu lo ne vesti al 2 di nuovo La cappa Si, lì c'è il LUT veramente alto Non lo vogliamo provare Che abbiamo questa opportunità Però almeno se riusciamo Ah, ho una scarelle Lascio la cappa Si, non ho colpi per la cappa Lascio la cappa Ma prendo la scarelle Oh! Ahahahah Ma che mo' vuoi te? Ma sei scemo Ti dovevo vendicarti Ma che ti devi vendicare? Ma sei scemo veramente Noi siamo già sotto serbe Cazzeggiamo ragazzi Farino Eh, lo scemo che sei Ma dopo quando andrò giù Mi deve penalizzare pure a me Vedi, io non l'ho fatto apposta Lui l'ha fatto apposta Merda Ehm Vivo l'SKS E lascio il mini 14 Lo volete voi? Il mini Ho buttato le bande là Sì Fa finta Il caro Ehm Però non te l'aspettai proprio la cronata No Vedi che non c'è nessuno Trovata un'altra scappa Guarda le 5 non mi fai scherzi Io non è che Ci rimango bene Ci rimango malissimo Stiamo a cazzeggiare Mi ha fatto una sorpresa proprio Guarda ci sono rimasto un attimo Diamo chi? Ah perché io voglio dire Diamo a cazzo Divertente Ma che cazzo Ma ti sei dopato? Ti sei dopato? No, sta sotto l'anfetamina Mi sa che E' peggio Si Troppo energico Rompiamo il cazzo Arriva la gente Il terzo urla Un mirino L'altra volta non lo sentivo così Poi sto sempre qui Tu usi l'anfetamina è ovvio che Allora, sul server normale io voglio solo vincere Sul server io voglio fazziggiare Io i server Cheapad 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 a qualcuno? Fa un po' il gioco anzio Eh tu mettilo in inglese Che veramente fa schifo in italiano Tradotto coi piedi Ho abituato a Eeeh Veste la dove qua? Starronata Dove le hai lasciate poi quelle bende? Non penso che le hai lasciate su quel balcone Lo lascio la dove stavi tu Ma dove è andato cosa? Ma guardate non c'era Muscoli ma tu sei arrivato No svegli non ti andava via Sei andato via? No No svegli non ti andava dai No svegli non ti andava dai E dimmelo che stai andando via Te vengo dietro almeno Stavamo a lutar No Rimani coo Frizzo Somma che è laggata Mi ha fatto torna dietro Quello è nato svegli Ma pilla da cazzeggio? Perché si è giocato? Pilla da così male? No io scherzo Sto giocando normale Su un momento un attimo mai spiazzato Però poi Giocando normalissimo Certo se non lo dici prima che dobbiamo giocare a cazzeggio Perché stavo tutto Capito? L'azienda non discendo mai Quindi stavo tesso Con le sorprese qua No 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 quante vesti al 2 qua sono buone Stavo che non trovo quelle bande che dicevi Forse già l'avevo presa PUNK C'è un painkiller Lo uso La tiro da tu la smoke Eh Quando vuoi giocare sul server così da giocare? Sì Chiaro Perchè la pilla così male? No ti si è staccato l'audio e non ha capito Eh infatti Forse la sensibilità di TS Dico quando Quando vuoi Quando fai le partite così Poi giocare Poi giocare un botto No Lo so Non è la prima volta che vengo qua No Abbiamo fatto qualche allenamento Non l'abbiamo fatto spesso però Cioè Che scendevamo già col presupposto Tipo Andare male che non trovo l'arma Però mi voglio allenare Un altro scarello L'ho trovato qua Io so 3M Guarda Ma la gente Eh Strano che non troviamo gente con questo cerchio così piccolo Un altro scarello Che cosa Siamo dentro Pronto tu? Eh Siamo dentro Strano Siamo dentro Mi rinizzero Eh Ma ci sta Venta a prendere una coperta qua Vieni Mosconi Venta a prendere il suo coperta Non c'è spazio Ma che me dovrei prendere? Eh no Non c'ho roba Puri spazio Eh Pilatelo lo stesso Che fai? Lo lasciai con la coperta Eh Daglielo a Simone Eh Come? Non lo posso prendere io Daglielo a Simone Ma vengo io Ma vengo io Riesco a arrivar lì in pochi secondi Siamo in 3 Io non lo posso prendere Tu non lo puoi prendere Ah sì che lo potevi prendere Non lo posso Lo posso prendere Il loot è altissimo Oh mo mi arrabbio la devi smettere la smoca a me me l'ha tirata vicino trovo un cazzo di zaino qua no zaino servo al 2 eh quanti cazzo ah si vabbè siamo usciti da lì sicuramente uno all'uno lo trovavamo dove sta l'ottoper? lascia un checkpad qui che non c'ho spazio c'è un dedo a me? come c'è un dedo a te? ma dove sta l'ottoper che ti sparo da qui? ah si piano di sopra network lag detected ma hai visto mi ha fatto bloccare la finestra la gamba però a me si è bloccato si io stava uno alla finestra ultimo piano la finestra più a sinistra eh io non mi posso muovere manco io sto fermo da tre ore così vabbè madonna sto gioco ma perché sto gioco? no ma perché è 7 nord america mi avvio il gioco no non lo riavvia si è avviato ok non ci fai niente ho fatto un po' di gioco minchia fammi sapere se ti va bene dopo il riavviato è rimasto a 122 fps ah no 120 122 ma te c'hai lo schermo che va a più di 60 hertz non ti fa connette più? no non mi dà manco un attimo porca puttana mo che c'avano le armi gente di fronte non le possiamo usare vedi che cagata cds ho chiuso il gioco no non mi dà manco non mi dà manco non mi dà manco